manca poco al natale per la sicilia arriva il problema del caro voli alcune tratte sfiorano già i 600 euro tra andate e ritorno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale venerdì prossimo 8 novembre a piazza verdi a palermo la festa delle forze armate dell'unità nazionale tanti gli stand dei corpi armati dello stato clever grow si è giudicata il primo premio al star cup sicilia con la sua innovativa soluzione per l'irrigazione intelligente dopo la sconfitta con il cittadella tifosi del palermo delusi per i risultati che non arrivano ben ritrovati alla prima edizione del tg di media news apriamo con il caro voli manca poco al natale per la sicilia arriva puntualmente il problema del caro voli alcune tratte sfiorano già i 600 euro tra andata e ritorno vediamo i dettagli si avvicinano le festività e torna con puntualità il caro voli natalizio sugli aerei che servono l'isola nelle rotte nazionali con picchi che in alcune tratte sfiorano già i 600 euro in andate e ritorno senza bagagli stive senza posto prenotato purtroppo gli esempi ci danno conferma infatti simulando una permanenza in sicilia dal 21 dicembre fino al 6 gennaio con volo da bologna palermo e viceversa il costo dei biglietti per un passeggero con solo zaino borsa seguito e rigorosamente in classe economy va da un minimo di 408 a un massimo di 575 euro tralasciando i voli con la leva taccia prima dell'alba per imbarcarsi sull'asse milano palermo nelle stesse date con le stesse modalità di viaggio invece varie da 416 a 579 euro mentre sulla milano catania sale a 586 euro non va molto meglio per un'andata ritorno torino palermo e torino catania con prezzi che si spostano rispettivamente da 419 a 523 da 470 a 527 euro stessa storia sui voli che da venezia portano all'isola con biglietti a partire da 416 euro per fortuna le conseguenze economiche dei residenti in sicilia saranno meno traumatiche grazie al bonus istituito l'anno scorso dalla regione con rimborso del 25 per cento sui ticket delle linee italiane che prima di natale dovrebbe salire al 30 per cento grazie a un surplus di 7,2 milioni di euro aggiunto nell'ultima manovra varata dalla giunta schifani e da approvare all'ars mentre dall'assessorato regionale alle infrastrutture fanno sapere che per gli assegni relativi allo sconto finora chiesto da 500 mila siciliani è stato liquidato anche il mese di settembre i turisti invece rischiano di essere scoraggiati dal raggiungere l'isola per le vacanze di natale a causa degli alti costi dei voli il settore turistico siciliano teme dunque pesanti ripercussioni dopo le positive performance della stagione estiva che facevano ben sperare per il proseguimento della ripresa le associazioni di categoria chiedono immediatamente interventi strutturali per evitare il ripetersi di questa situazione ogni anno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale venerdì prossimo 8 novembre per la cisa al catania lo stop si sarebbe potuto evitare venerdì prossimo 8 novembre anche catania come altre città metropolitane sarà priva del servizio di trasporto pubblico penalizzando studenti cittadini e lavoratori pendolari nei ultimi anni il dialogo tra sindacati e aziende del trasporto pubblico locale ha riguardato principalmente questioni normative aziendali di secondo livello che nella maggior parte dei casi non hanno migliorato la gestione del personale viaggiante finendo per influire negativamente sulla qualità del servizio offerto e senza significativi vantaggi economici per gli autisti per giovanni lo schiavo responsabile dell'unione provinciale della cisa alla catania questo sciopero il terzo di 24 ore senza fasce di garanzia si sarebbe potuto evitare se il governo centrale le associazioni datoriali fossero stati meno indifferenti al rinnovo contrattuale e ad una riforma strutturale del settore tra te categorie più provate nel contesto sociale italiano al pari degli operatori della sanità pubblica e privata si trovano i lavoratori del trasporto pubblico locale le aziende hanno sempre più difficoltà a reperire autisti di autobus costretti a turni a ritmi intensi compresi i festivi alle domeniche come accade per i macchinisti della metropolitana i operatori degli impianti a fune e i conducenti di tutti soggetti a carichi di lavoro significativi si tratta di professionisti di alta responsabilità che richiedono specifiche competenze qualifiche ma che sono scarsamente retribuite e poco valorizzate lo dimostra la mobilitazione indetta per l'8 novembre 2024 dai sindacati nazionali di categoria per sollecitare il rinnovo del contratto scaduto lo scorso 31 dicembre 2023 risorse adeguate a garantire servizi efficienti ai cittadini e la sicurezza degli operatori dato l'aumento delle aggressioni fisiche e verbali una interlocuzione non solo positiva e proficua ma necessaria a parlare l'amministratore delegato dello stretto di messina in merito al confronto con il sindaco federico basili nell'interesse dei territori coinvolti dall'opera del ponte noi siamo ormai in fase conclusiva della valutazione impatto ambientale il termine di legge scade a metà novembre subito dopo si chiude la conferenza di servizi la conferenza di servizi è il luogo destinato a valutare le richieste del territorio e il messina villa san giovanni e non solo ma i principali sono chiaramente i due comuni di messina villa san giovanni e lì correttamente messina ha presentato le sue richieste da parte nostra avendo anche dialogato con il sindaco con il comune anche nell'esame di queste richieste nel verificare lo stato progettuale la valutazione daremo senz'altro un'indicazione da parte nostra positiva su queste opere chiaro bisogna studiarne la sostenibilità finanziaria i tempi di realizzazione in modo da poter essere coordinati con i tempi del ponte quando parliamo del progetto ponte parliamo di un progetto ingegneristico la sostenibilità le torri l'impalcato il treno tutte cose che sono state riviste aggiornate rispetto al progetto del 2011 che rimane assolutamente valido ma abbiamo rivisto tutto dalle cose più marginali sistemi di demodificazione dei camion chi sa di queste cose quando si parla di progetto del ponte il titolo sotto ha tanti sottotitoli quindi quella parte lì è stata assolutamente aggiornata alle più recenti necessità materiali sicurezza ambiente io ritengo che le richieste di ieri no le 24 progetti testimoniano di una integrazione e di un coordinamento tra progetto ponte e le richieste del territorio sono completamente diverse rispetto a quelle del 2011 cioè queste richieste che ieri il sindaco ha presentato sostituì non è che aggiornano sostituiscono quelle del 2011 e quindi danno questa compatibilità è un progetto redatto nel 2011 perché lo sappiamo tutti che è stato assolutamente aggiornato tecnicamente ingegneristicamente ambientalmente a le più recenti esigenze quindi a oggi direi che perché altrimenti avrei difficoltà a capire le richieste di ieri del territorio fanno sì che il ponte risponda anche all'esigente altrettante giornate del territorio quindi tutto insieme è un progetto ad oggi che noi dobbiamo fare nel modo più rapido possibile e al meglio a piazza verdi a palermo la festa delle forze armate e dell'unità nazionale tanti gli stand dei corpi armati dello stato oggi a piazza verdi a palermo si è celebrata la festa delle forze armate e dell'unità nazionale di fronte al teatro massimo uomini e mezzi dei corpi armati dello stato tanti gli stand per spiegare visitatori le peculiarità delle diverse specialità celebrai forze armate in un momento come questo vuol dire riflette innanzitutto su cosa vuol dire la pagina prima di tutto che è un valore che abbiamo dato per troppo tempo come scontato e che i fatti di questi ultimi anni dimostrano come scontato non è vuol dire ricordarci che le donne e gli uomini che indossano una divisa sono al servizio del paese sono pronti a difendere questo paese e a sacrificarsi per esso e per la gente che ci vive e ci ricorda anche che la libertà non è scontata bisogna essere anche pronti a difenderla e credo che le forze armate sono qui per questo sono le forze armate di un paese democratico, repubblicano un paese che conosce perché l'ha provato sulla prima pelle il significato della guerra, delle divisioni e loro sono qui per noi tutti Forze armate che nel corso degli anni, nelle operazioni sia interne ma soprattutto anche quelle internazionali di pace hanno offerto un sacrificio di vite umane per la sicurezza internazionale, per la sicurezza della nostra nazione è una giornata importante per l'unità nazionale quindi festeggiare tutti insieme, noi forze armate e i cittadini in questa splendida cornice è davvero un onore per noi che serviamo il paese e poi riusciamo così a unirci alla popolazione Significativo il momento in cui i bambini e la scuola Bonfio Colozza di Palermo hanno ricevuto un tricolore dall'arma dei carabinieri Ma cosa ne sanno i ragazzi oggi di tricolore? Diciamo che è un giorno in cui dobbiamo fare sicuramente ritornare e rivedere, rivivere dei sentimenti perché le emozioni che ci dovrebbero ogni giorno far sentire questo amore per la patria ma non solo per il tricolore, per chi per quel tricolore ha sacrificato la propria vita 5 milioni di euro dalla regione per sviluppare la didattica immersiva negli istituti scolastici siciliani di primo ciclo Potenziare il sistema educativo attraverso lo sviluppo e la sperimentazione della didattica immersiva è l'obiettivo della regione siciliana che ha stanziato 5 milioni di euro nel suo bilancio per finanziare le iniziative intraprese dagli istituti scolastici di primo ciclo ossia istituti comprensivi, direzioni didattiche, scuole medie con sede nell'isola e che abbiano sedi con locali idonei ad installare aule e ambienti didattici di tipo immersivo dove sperimentare la realtà aumentata e la realtà virtuale L'agenda ONU 2030 e le raccomandazioni dell'Unione Europea prevedono l'incremento delle competenze scientifiche e tecnico-professionali spiega l'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano Il Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio nella piena consapevolezza che la didattica delle STEM non faccia riferimento solo all'insieme delle materie scientifiche ma ad una nuova filosofia educativa che si serve del metodo scientifico per fornire soluzioni ai problemi di una realtà sempre più complessa intende promuovere un'azione sinergica di sviluppo e potenziamento di ambienti di apprendimento innovativi che sappiano essere cioè coinvolgenti, esperienziali e interattivi Attraverso lo sviluppo delle tecnologie immersive come la realtà virtuale e quella aumentata è possibile favorire l'acquisizione di capacità trasversali La circolare dell'assessore Turano rivolta alle scuole di primo ciclo prevede che gli istituti interessati possano presentare una sola proposta progettuale finanziabile con un massimo di 55.000 euro di cui 50.000 destinati all'acquisto di attrezzature per la realizzazione delle aule immersive e 5.000 per le spese di personale da impiegare in orari extracurriculari Gli istituti potranno presentare la domanda entro le 10 del 20 novembre prossimo inviando una PEC all'indirizzo dipartimento.istruzione-certmail.regione.sicilia.it La visita di Giovanni Paolo II a Catania 30 anni dopo ricordata con un convegno e una concelebrazione eucaristica L'arcidiocesi di Catania ricorda i 30 anni della visita pastorale di Giovanni Paolo II in città con un convegno e una concelebrazione eucaristica Durante due giorni di presenza a Catania il Papa oggi santo evidenziò l'umiliazione dei cittadini di essere aditati come abitanti di una città degradata e violenta dominata dalla criminalità rassegnata e resa invivibile e lanciò ai giovani, al mondo della cultura, al clero e al popolo un forte appello a tutti dico state in piedi con cittadini della martire agata e invitò a non arrendersi a non fuggire a non soggiacere al dominio della criminalità ma piuttosto a rialzarsi facendo leva sulla memoria del grande patrimonio culturale e spirituale della città La chiesa di Catania, disse Giovanni Paolo II porta un tesoro racchiuso nei vasi d'argilla della sua umanità Il convegno che si è svolto al Museo di Ocesano per ricordare l'evento dei 30 anni ha avuto come tema Catania Alzati Nel corso dell'incontro è stato proiettato un video con alcune scene della visita di Giovanni Paolo II inoltre la concelebrazione eucaristica è stata presieduta da Monsignor Giuseppe Baturi arcivescovo metropolita di Cagliari e segretario generale della CEI La chiesa sente il dovere di parlare anzi di gridare a quanti abitano nella città Catania alzati e rivestiti di luce e di giustizia Clever Grossi ha giudicata il primo premio allo Star Cup Sicilia con la sua innovativa soluzione per l'irrigazione intelligente un passo importante verso l'agricoltura di precisione un evento promosso da Unicredit che ha messo in luce il talento e l'ingegno degli studenti delle università di Catania e Palermo che hanno presentato sei progetti finalisti selezionati tra 25 Abbiamo il piacere di ospitare la fase finale di Star Cup Sicilia che è una business plan competition affiliata al premio nazionale dell'innovazione alla quale partecipano le finaliste delle gare che si sono svolte nell'ambito delle principali università siciliane Siamo partner di questa iniziativa dal 2015 e questo dà il senso del valore che diamo a questa manifestazione e questo perché? Perché in quanto principale banca del territorio vogliamo avere un ruolo da protagonista nel promuovere e supportare la realizzazione di progetti imprenditoriali al fine di creare e favorire la creazione di nuove imprese e l'inclusione dei giovani nel mondo del lavoro In questo caso lo facciamo attraverso una partnership una collaborazione virtuosa con le università che sono degli attori chiave del territorio con i quali proviamo a mettere in atto tutte quelle misure per favorire l'interconnessione tra la formazione e il mondo del lavoro e quindi stimolare anche l'autoimprenditorialità dei nostri giovani Devo dire che negli ultimi anni abbiamo registrato un fermento imprenditoriale da parte degli under 35 e se andiamo a rilevare nella sezione speciale del registro delle imprese le nuove start-up e PMI innovative vediamo che abbiamo in Sicilia oltre 800 di queste realtà Per darvi un numero pensate che 10 anni fa erano soltanto 54 quindi si tratta di realtà molto importanti per i nostri territori non solo per il contributo economico che possono dare ma soprattutto in termini di innovazione quindi sono realtà che vogliamo seguire e lo facciamo nel quotidiano attraverso la nostra rete quindi la nostra struttura organizzativa 204 filiali in tutta la Sicilia coordinate da 8 aree commerciali che seguono anche oltre le famiglie le micro imprese fino a un milione di fatturato e lo facciamo con 10 aree corporate per le imprese molto più strutturate e poi per la nostra rete ovviamente di private con tre aree private e lo facciamo anche attraverso delle iniziative dedicate come Unicredit Start Lab che è un programma di acceleratore della banca una piattaforma di business ideata e pensata per identificare e supportare le migliori PMI e start up nel loro percorso e nella loro attività di crescita non solo quindi parte finanziaria ma anche parte di consulenza farli inserire in un network attraverso dei mentor e soprattutto creare una connessione con la nostra rete di imprese per stimolare eventualmente la partnership sia commerciale che industriale Il progetto di prevenzione cardiovascolare nazionale Banca del Cuore nasce nel 2015 ed è un'iniziativa promossa dalla Fondazione per il tuo cuore per concretizzare nel mondo reale le proprie finalità di formazione e prevenzione del rischio cardiovascolare globale un progetto unico al mondo ideato e coordinato dal professore Michele Massimo Gulizia da noi intervistato alla recente manifestazione Expo Medicina che si è svolta alle Ciminiere di Catania La Banca del Cuore insomma parliamo di cardiologia ma soprattutto parliamo di tecnologia professore Gulizia a che punto siamo nel 2024? Nel 2024 siamo a livelli elevatissimi ormai La Banca del Cuore anche quest'anno dopo il settimo anno più di 80.000 card rilasciate riapre la sua compagna di prevenzione cardiovascolare nazionale una campagna importante la più grande campagna in area cardiovascolare che come vi ho detto ha già censito più di 80.000 soggetti che hanno ricevuto gratuitamente la Bancomart questa card in cui noi carichiamo tutti i dati e che è facilmente visibile da qualunque parte del mondo purché sia presente una connessione internet Noi abbiamo il piacere di lanciare questa campagna 24-25 qua da Catania la città natale del suo editatore ovvero io e sono ben orgoglioso di aver ideato questo progetto che rappresenta il progetto di punta oggi di prevenzione cardiovascolare in Italia Noi effettuiamo uno screening gratuito lo faremo a Catania dal 25 al 27 di ottobre a seguire a Vittoria a Palermo e poi inizieremo il giro per l'Italia che comprende l'elettrocardiogramma la storia cardiovascolare del soggetto tutte le allergie, le patologie i farmaci assunti e soprattutto da una semplice puntura del dito ben nove parametri metabolici tutto il profilo del colesterolo che è appunto il killer più silenzioso che è responsabile dell'infarto dell'ictus cerebrale e poi ovviamente dell'urucemia che rappresenta un dato importante l'infiammazione come la glicemia che sono fattori di rischio fondamentali per lo sviluppo di queste malattie Quanto è importante la prevenzione? Fondamentale prevenire si dice meglio che curare oggi è un obbligo assistiamo tutti giornalmente un po' al degrado della sanità perché la quantità di richiesta assistenziale è elevatissima gli ospedali sono in crisi in tutta Italia ci sono pochissimi medici ci sono pochissimi infermieri purtroppo si verificano anche degli episodi estremamente spiacevoli come le aggressioni ai medici e agli infermieri che allontanano i nostri giovani dalla scelta della professione sanitaria perché non si sentono tutelati e quindi è un appello che lancia il pubblico noi facciamo tutto questo gratuitamente siamo a disposizione del pubblico in un certo senso ci sostituiamo ma non è vero affianchiamo il servizio sanitario pubblico perché siamo medici del servizio sanitario pubblico che come cardiologi dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri siamo i cardiologi del sistema sanitario nazionale ci mettiamo a disposizione per la prevenzione cardiovascolare Il nisseno Giorgio Giordano è stato confermato presidente del Comitato Regionale Federazione Italiana Tennis e Padel Sicilia anche per il prossimo quadriennio 2025-2028 Volevo ringraziare tutte le società siciliane che mi hanno dato fiducia per guidare il Comitato Regionale Siciliano per altri 4 anni Gli obiettivi sono tanti la federazione ormai è una federazione multidisciplinare quindi abbiamo 4 grosse discipline e dobbiamo portare avanti l'attività di tutte queste 4 discipline lavoreremo molto naturalmente sulla promozione del pickable questa nuova disciplina sugli impianti sportivi un obiettivo che il nostro presidente nazionale ci ha imposto è proprio quello di fare una mappatura degli impianti della Sicilia e vedere proprio quei comuni che sono sprovvisti di campi per poterne realizzare qualcuno quindi faremo questa mappatura lavoreremo molto sul padel cercheremo di proprio riorganizzare tutte le attività del padel insomma abbiamo tante punterò soprattutto sui tornei internazionali che è un mio pallino speriamo di aumentare il numero di tornei internazionali da svolgere qui in Sicilia quindi c'è veramente tanto da fare C'è tanto da fare ma soprattutto possiamo dire che in archivio vanno 4 anni in cui appunto il comitato è cresciuto anche e soprattutto nei numeri Sì, veramente sono stati 4 anni positivi se vogliamo parlare di numeri già abbiamo superato le 300 società affiliate siamo a 314 quindi questo ci dà la possibilità di avere due consiglieri in più in comitato abbiamo circa 25.000 tesserati sono aumentati il numero delle squadre iscritti dei tornei il racchetto in classe il progetto dell'istituto di formazione abbiamo quasi 50.000 tesserati insomma i numeri sono veramente in forte crescita e ripeto questo grazie al lavoro che tutte le società siciliane hanno fatto in questi 4 anni E dopo la sconfitta con il Cittadella ascoltiamo i tifosi del Palermo delusi per i risultati che non arrivano è stata una bella partita nel primo tempo peccato non aver segnato ci sono gli esterni che incidono poco incidono poco abbiamo insigne che potevamo anche provare magari a provare sto a po' a tentativi perché abbiamo visto che non è incisa abbastanza è giusto che tu perdi la partita dopo che sbagli 4-5 occasioni clamorose non ci possiamo lamentare ma la verità è questa se non sei concreto davanti non puoi andare avanti non l'abbiamo finalizzato l'unica cosa che dovevo fare non l'abbiamo fatta e quindi così non si possono vincere la partita è brutta partita nessuno che sa segnare nessuno che si vede a tirare il primo tempo magari un pochettino meglio ma il secondo tempo completamente orribile siamo presi questo grande dispiacere devo dire che insomma i giocatori pare che abbiano dato tutto a se stessi però con scarsi risultati probabilmente mancava la finalizzazione dei risultati effettivamente è mancata solo la finalizzazione poi il pubblico era scontento in realtà io penso che la squadra abbia giocato bene è mancato il risultato io credo che il Palermo abbia giocato comunque una grande partita quindi i fischi un po' ingenerosi nel calcio si sa vince chi la butta dentro il Palermo è stato un buon Palermo purtroppo la fortuna è stata dalla nostra parte andrà meglio la prossima volta quando purtroppo mancano diciamo le volontà e le capacità tecniche i risultati sono questi perché siamo senza terzini abbiamo un centrocampo ballerino il risultato è questo mi sembra che anche l'allenatore sia abbastanza in confusione perché non riesce né a trovare la formazione di base se né a dare i giusti ruoli alle persone quando il migliore in campo del 6 e Cercaroni è adattato a terzino abbiamo capito tutto no? dico mi dispiace per Diakite mi dispiace per Lundo ma se facesse l'altro nella vita sarebbe meglio è tutto incredibile è tutto sbagliato tutto quello che stanno facendo questa gestione societaria è brutta a dirsi ma sta sbagliando tutto e continua a sbagliare tutto intanto dovremmo chiedere alla Lega di rivedere il campionato e chiedere di giocare soltanto 45 minuti perché soltanto 45 minuti questa squadra riesce a fare qualcosa di buono a intravedere qualcosa di buono poi il nulla sicuramente noi ci siamo illusi ci siamo illusi di questo grosso nome ci siamo illusi di questa pseudo campagna acquisti è una squadra che non ha dove andare noi ci illudiamo di lottare per ambizioni che questa squadra non può assolutamente dare non segnare contro Manto e Cittadella nessun gol è già la dice tutta e passiamo al volley maschile la Cossi ed il Saturni a Cicastello ritrova il Sorriso al Palacatania vince 3 a 0 contro Abba Pineto la Cossi ed il Saturni a Cicastello vince per 3 a 0 contro Abba Pineto ritrovando la vittoria dopo il tie break di Aversa il Palacatania sorride ancora ai castellesi che sotto gli occhi del pubblico amico centrano la terza vittoria su tre riprendono la marcia ai piani alti del campionato di Serie A2 Credem Banca scavalcando Delta Group Porto Viro e rimanendo a meno 2 dalla capolista con Sar Ravenna primo e terzo set vinti agilmente dalla squadra di casa che nonostante le difficoltà fisiche dettate dalle gare ravvicinate riescono a centrare la vittoria pure del più combattuto secondo set ottenendo così un successo rotondo che fa morale in vista della prossima gara quella in casa della Maacqua San Bernardo che aprirà la settima giornata venerdì 8 novembre alle 20 è stata una partita non tanto bella a parte il secondo set che è stato diciamo pieno un po' di patos di sofferenza sportiva bravi ragazzi a recuperare una situazione diciamo non buona perché sia Luca che Manavi già vi vengono da periodi in cui non si allenano tanto forte per problemi fisici quindi vanno dosati ed è stato importante l'ingresso di Willy e di Simone Orte in campo che hanno fatto respirare i due ragazzi titolari e hanno dato la possibilità alla squadra di riprendere ritmo di giocare punta a punta e vincere il secondo set che penso che ha dato un indirizzo chiaro alla partita continua il buon momento che abbiamo nel lavoro a mura di difesa perché stiamo murando tanto e stiamo murando bene abbiamo aggiunto qualcosa nel gioco di attacco della squadra stasera si è visto era importante vincere ci siamo riusciti adesso ci prepariamo per questa lunga trasferta di Cuneo vincere fa sempre bene quindi è importante per il nostro percorso certo veniamo dalla sconfitta di Caserta quindi era importante oggi riprendere la marcia anche perché poi venerdì andremo a Cuneo campo di diretta concorrente quindi era importante mettere in cascina dei punti importanti l'abbiamo fatto anche con una bella prestazione secondo me abbiamo alzato il livello della nostra battuta e questo ci fa sì che riusciamo a fare meglio anche la fase break e tutto quanto quindi siamo felici di questa vittoria del pubblico e si va avanti e questa era l'ultima notizia vi ringrazio per averci seguito vi do appuntamento alle prossime edizioni di Media News Grazie a tutti